terza parte di gente che parla lunedì 10 dicembre 2012 la rubrica portfoglio la finanza per tutti in compagnia di paolo turati buongiorno in ambito natalizio buongiorno a tutti buongiorno paolo turati il nostro economista di fiducia prima però lo sci dai due paroline sullo sci visto che tu sei un appassionatissimo davvero valdiser valdiser diciamo che è stata veramente una bellissima gara sia quella di gigante che quella di slalom sostanzialmente la così il risultato più importante è stato portato a casa da questo francese giovanissimo classe 1991 che si chiama pinturo già l'anno scorso lo avevamo seguito con la sua sciata veramente eccellente bene ha vinto lo slalom tranquillamente e ieri avrebbe anche vinto lo slalom gigante quindi avrebbe fatto una bellissima doppietta è uscito alla penultima porta della seconda manche peccato veramente un straordinario personaggio è talmente superiore agli altri così giovane che viene da pensare che se non avrà incidenti nei prossimi anni sarà assolutamente il nuovo tomba molto bene il solito austriaco hirscher che si piazza vince il gigante di ieri secondo in slalom quindi la coppa del mondo fra lui e svindal lui è più un tecnico svindale più un velocista ormai si disputerà appunto fra questi due personaggi parlavamo di incidenti il nostro giovane giovanni borsotti si è rotto due ginocchi in allenamento e ha fatto una dichiarazione importante ma è in effetti significativa con questi nuovi sci che sono diversi dall'anno scorso ci sono già dieci atleti fra cui il campione olimpico grange di slalom francese che si sono fatti male ecco quindi questo è un qualcosa che su cui va meditato cioè è stata cambiata la tecnologia dello sci effettivamente sono aumentati gli incidenti vero non vero se questa statistica è significativa o meno ancora non possiamo dirlo ma certamente è una cosa che può avere una certa importanza bisogna fare attenzione ma tu guardi anche le gare femminili dove le due regine sono l'americana l'inzeifon e la slovena tina mazza e sono ragazze veramente forte oltre che bellissime in quanto quando fanno qualche prova con i maschi specialmente nelle fasi finali di coppa del mondo prendono veramente poco prendono due tre secondi a mangi quindi vanno forte come atleti maschi di secondo terzo gruppo per dire sono due atlete assolutamente significative da un punto di vista tecniche più muscolare la l'inzeifon quindi una ragazzona è alta quasi un 80 per 70 kg e invece più tecnica più mingerlina la latina mazza slovena che effettivamente si stanno contendendo la coppa del mondo ad altissimo livello in questo fine settimana abbiamo celebrato anche piero gross il nostro campione a 40 anni fa 40 anni fa io me la ricordo bene questa cosa qui lui 18 anni vinse la prima gara di coppa del mondo un gigante di val di ser partendo col 40 e da allora è al due record imbattuti quello di aver vinto la come persona più giovane una gara di coppa del mondo partendo col numero più alto allora col numero 40 c'era già la pista rovinata quindi voglio dire partire col 40 a 18 anni vince una gara di coppa del mondo quei livelli vuol dire essere assolutamente di un campione quale poi pierino ha dimostrato di essere vincendo poi la coppa del mondo e creando la valanga azzurra perché è vero che tony già da un paio d'anni prima vinceva e quindi si stava già creando una sua reputazione però poi l'insieme della valanga azzurra è stata dalla somma degli altoadesini quindi tony schmalz stricker buonanima che peraltro conoscevo bene è mancato pochi anni fa e invece i piemontesi quindi paolo de chiesa giuliano besson e pierino grosso quindi tutti di sauso di sestriere quindi ecco questo è stato un momento veramente importante piero gross è stato anche sindaco di salsa dulce oggi è in prima pagina su repubblica di torino perché c'è stata questa tragedia perché la neve è bella da praticare come sport come disciplina dello sci però c'è stata anche questa valanga che ha travolto un turista che è morto sul rio nero di maranello in provincia di modena è intervenuto pieno grosso dicendo che ci sono cartelli ovunque e chi si avventura fuori pista lo fa a suo rischio e pericolo ma gli amici della vittima che si sono salvati grazie al cielo sono stati denunciati perché è un vero reato quello di tagliare fuori pista oggi come oggi i segnali ci sono sempre ma perché andare fuori pista? ma è perché è spettacolare il rio nero è bellissimo ci sono posti bellissimi Valle Valfredda dalle parti della conca di Bardonecchia puoi capire però tutti violano questi principi e non sanno che la montagna non fa sconti ma anche grandi guide alpine certe volte si ritrovano a fare questi errori e purtroppo poi la paghi perché effettivamente quando c'è una massa nevosa importante come quella che è avvenuta negli ultimi giorni più il vento il vento chiaramente la fa stratificare e basta veramente un taglio di uno snowboard o di uno sci per fare calare giù una slavina di 80 metri che in questo caso di fronte era già una bella slavinone è arrivata la neve anche sulle nostre montagne weekend pienoni un po' meno durante la settimana ma è abbastanza prevedibile anche per gli operatori turistici del settore credo che puntino tutto sul weekend e adesso sul periodo natalizio di Capodanno anche se io sono stato su a Bardonecchia l'8-9 non è che ci fosse poi così tanta gente ce n'erano ma non più come negli anni negli anni d'oro i costi di trasporto di autostrada di giornaliero di ID si stanno assommando in questa situazione di crisi quindi anche complice il fatto che ci sono le feste natalizie e ci saranno dei regali da fare e sì c'era gente ma assolutamente non in modo significativo io ricordo sempre che il consorzio Bardonecchia ski è nostro inserzionista del programma serata derby in onda tutti i venerdì e fino al 21 dicembre fino a prima di Natale si potrà vincere uno ski pass gratuito una giornata interamente gratis sulle piste di Bardonecchia rispondendo correttamente al nostro quiz e spezziamo una lancia fuori di Bardonecchia io ci sono da 50 anni e andateci a Bardonecchia che è veramente bello ma anche il paese è carino no? sì assolutamente vivibile oltretutto anche da un punto di vista estivo è un paese che dà delle grosse possibilità di divertimento grazie Grazie a tutti.